Ciao a tutti, oggi sono qui con voi perché voglio parlarvi del nuovissimo wok della Bernes appena arrivato al negozio realizzato in alluminio, antiaderente l'alluminio è derivante dalle lattine che sono state utilizzate per uso alimentare quindi abbiamo un prodotto 100% riciclato, molto green idoneo a tutte le fonti di calore, compresa anche l'induzione magnetica non vi dirò assolutamente quanto costa perché vi invito a venire qui in negozio a Roma in piazza dell'unità 29 altrimenti potrete andare sul nostro sito per unisnc.it